Pierce Morgan ha risposto furiosamente alla notizia che il principe Harry avrebbe scritto un libro di memorie che dovrebbe essere pubblicato il prossimo anno. Pierce Morgan ha chiesto che i titoli del principe Harry e Meghan Markle vengano spogliati mentre si lancia nel suo ultimo sfogo sulla coppia. Il 56enne ex presentatore di Good Morning Britain, che è un feroce critico del nipote della regina e di sua moglie, ha bollato Harry come un moccioso reale ipocrita mentre rispondeva alla notizia che stava scrivendo un libro di memorie. Le osservazioni di Pierce, scritte nel suo ultimo, furioso articolo su Mail Online, sono arrivate un giorno dopo che la Penguin Random House ha confermato di aver firmato un accordo con Harry e di pubblicare il suo libro l'anno prossimo. Scosso dalla notizia, Pierce ha detto ai lettori che il libro di memorie era uno schiaffo in faccia e ancora una volta ha invitato la regina Elisabetta a spogliarli dei loro titoli. Le memorie sono uno schiaffo in faccia troppo lontano per una famiglia che ha sicuramente esaurito tutta la pazienza collettiva con i Sussex, ha scritto. L'ho detto prima, e ora lo ripeto, la regina dovrebbe togliere a Harry e Meghan tutti i loro titoli con effetto immediato. Ha continuato. Costringili a fare questo malevolo. Manipolatore ci asterisco asterisco p nei loro nomi, non come reali. All'inizio di questa settimana, il giornale ha confermato di aver negoziato un accordo con Harry e di aver pubblicato il suo libro di memorie intime alla fine del 2022. La società ha definito il libro un memoriale intimo e sentito di una delle figure globali più affascinanti e influenti del nostro tempo e promette un ritratto personale onesto e accattivante. Punto punto. In una dichiarazione, Penguin ha anche aggiunto che Harry condividerà le sue avventure, perdite e lezioni di vita anche dal suo tempo in prima linea in Afghanistan. Piers è stato a lungo un convinto critico di Harry e Meghan e ha intensificato i suoi attacchi alla coppia dopo che sono apparsi in diverse interviste di alto profilo al fianco di Oprah Winfrey. All'inizio di quest'anno, la coppia ha fatto diverse rivelazioni esplosive sulla loro esperienza nella famiglia reale. All'epoca, Meghan ha affermato che le era stato negato un aiuto professionale quando si sentiva suicida, e in un altro punto ha detto che un membro della famiglia aveva messo in dubbio il colore della pelle di suo figlio non ancora nato.